Dato che la facecam passa più tempo sopra che sotto, direi che è meglio lasciarla lì, tanto sta bene comunque, no? Oggi è venerdì e tocca ai blasters, oggi affronteremo il poliministro e Amaterasu. Non vedevo l'ora davvero di poter affrontare Amaterasu, è uno yokai difficile, non tanto Amaterasu di per sé, perché poi, bene o male, è uno solo, te la giostri, ma i mob che sono lì prima di doverlo affrontare, prima di poterlo affrontare, quindi andiamoci da fare. Sono al livello 50, che è anche il limite livello per affrontare il poliministro, e facciamolo. Gli yokai sono sempre gli stessi, ormai mi sono affezionato a questi. Eccoli qua, dunque dunque dunque, questi qui sono molto molto semplici immagino, però a livello 40 si fa sentire da loro, eh? Oh, un po' di sfere grandi, meno male, iniziamo con qualcosa di sostanzioso, perché sinceramente fare sempre sfere ogni a volontà è un po' stanca alla fine, eh? Broditi in gordo, che figata! Ma che roba c'è? Oh! È bello! Ah, poi si ricarica! Hai capito? Vabbè, 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 non c'è problema. Ma pure quel riso, ma che vuole quel riso? Vai via! Ok. Al massimo! Anzi, al massimo, come diceva, un vecchio saggio. Vabbè, basta, è troppo tempo, ci vuole. Allora, Mastic gli Oni se li mangia, però io sinceramente penso che un'eccezione possa farla per me. Che dici? Ancora sconfiggi gli Okanemici? Oh, santo cielo! Guarda quante sfere in giro. Però c'è anche... Tentacolus qua, Squidilius, come si chiama lui? Preciso, va! Era preciso? Quanto io ho fatto? È abbastanza, era preciso, dai. Bene o male ho preso. Più male che bene, però, ok, vai. Qui mi sa che si può farmare bene con le sfere che ci stanno in giro, anche se sfere Oni a volontà 1 e 2 sono modi molto migliori e più veloci. Oh, Coso, quanti davanti danni c'hai? Ecco. E magari curati... curati un po', Coso. Tato, dove sta il Tato? Che mi deve curare? Non riesco a muovere, certo. Se colpisce solo me! Oh, ce la fate di reanimarmi? Ma io non lo so. Impediti proprio. Vabbè, d'occhio pure. Ah, quello è rimasto... Il mastice è rimasto giappone. Io non ci sono. Non ci sono perché il gioco è scemo. Complimenti, gioco. Complimenti, davvero. Sì, vabbè, mi ha preso l'aura. L'aria che è passata mi ha preso. Mamma mia, che schifezza. Mamma mia. Shadow, sì, Shadow. Giocatori di Final Zone Eleven, Shadow. Vabbè, no, che cacchio succede? Non preme niente, non fa, non va. Ma che è? Oh, ma che è sta roba? Che non funziona niente. Non ci si capisce niente. Oh, ma che è sto schifo? Ragazzi, ma che è sto schifo? Non ci sto capendo niente. A parte che sono tutti quanti confusi. Ah, però fa danno. Non so cosa gli ha assorbito, ma ok. Dai, carica. Mamma mia, ragazzi, però. Tremenda sta cosa, eh. È tremenda davvero. Eh, sì, vabbè, allora. Fammi attaccare? Ma chi è questo? Ma stavo vicino a questo, ma chi l'ha visto? Vabbè, mi prendo una piccola pausa, dai. Oh, però, visita questo? Cioè, ammenare i demoni è fantastico lui, oh. Non lo sposta niente. Eh, trecia. Tanta sorella è una trecia. Dai, trecia. Vai. Senti però. Oh, la barriera sta contro il muro. Non sta in mezzo alla strada. Eh, che cavolo. L'ultimo, wow. Sì, vabbè, mi fai fare l'energia, mazzo, per favore? Vai, là un po' scuro. Ma ci ricarichiamo tutti, vai. Mamma mia, ragazzi, che disastro. Sì, però, cambi, per favore. Oh, niente da fare, eh. Ah, perché è confuso. Sì, ma è confuso, no, deficiente, però. Cioè, poteva cambiare comunque l'attacco, eh. No, ragazzi. È fastidiosissima sta lotta. Mastic, te ne vai, per favore? Ok, Mastic è mio, vai. E siamo confusi. Io non lo so. Oh, finalmente sei andato. Finalmente. Alleluia. Si è ringraziato il cielo. Ti chiami Yugi, vai. Ma che sei carico, Tato, dai. Vai. Finiamola. Ma, la peggiore, la peggiore di tutte queste. La peggiore di tutte. E senza, e senza shooting dodgy, eh. No, vorrei ricordarvelo. Perché non si sa per quale motivo questo tonto e quest'altro rimbambito non l'hanno restato. Non si sa per quale ragione. Perché io faccio caso al level 5. Punto ottenuto in zero. Grazie. Ah. Oh my god. Ma io non posso cittarmi di yokai. Cioè, veramente posso farlo? Potrei. E lo faccio. Perché se no, ragazzi, qua ci vuole troppo tempo per livellare. Emergenza divinità. Livello consigliato 40. Andiamo. Ah, non c'è limite. Allora sono forti. Ok. Sì, vabbè. Questa qui già l'ho fatta l'altra volta. All'inizio... Non è un problema superare questi... Questi sgorbi qui. Il problema sono gli altri dopo. Bene. Ora siamo pronti ad affrontare questi qua. Pronti? Let's go. Andiamo. Attacco a sorpresa. Presi. Uno. Però si sono alertati anche gli altri. Chissà per quale ragione. E sovranian se n'è andato? Yes, uno è andato. Vai. Bene. Pretengo che fa le folate di vento. Bravissimo. Signor K. Lei è bravo ma... Deve andarsene perché sennò qua non si va avanti, eh. Lo dico il giusto per me. Non per lei. Per lei che me ne frega. Per me. Ok. Pronti. Bene. Oh, picchiano forte, eh. Eh sì. Davvero. Così si rianima gli amigyugi premendo A. Oh. Però se lascia da solo è un problema. Ah, Tengu. Ti informo che è basta. Davvero? Rifacciamo come prima. Oh, oh. Vedi che ha imparato gli amigyugi. Ha imparato. Bravo. Nove in ombra. QB. Vai. Non pregare niente. Vai. Energy. Ma... Ma ha rotto le sca... Ma si è ricaricato ancora? Ha fatto? Ah. Ha fatto. Beh. Sconfiggio Materasu e Tsukuyo. Come è Tsukuyomi? Tutte e due? Ma siamo scemi? Ma come tutte e due? E chi ce la fa? Tsukuyomi. Tanto bella, ma... Ti devo fare cuore. Oh, buono il danno. Buono. Ah, ma Tsukuyomi ci prende. E Materasu è quasi andato. Insomma, il livello 50 paga, eh. Tanto pare. Buono. Buonissimo. Ma sono più forti gli altri che loro. Ma erano più forti i mob. Ah, no. Non è finita. Non è finita. Non finisce così. Vero? C'è una sfida più forte. Ora sì. Ecco. Ora sono dolori. Ah, no. Ma sono come prima. Non sono... Ma sono quelli a prima, sì. Leggermente forse più tosti, ma niente di che. Ah, ma si ricaricano ora? Chi è che cura? Chi è il... Chi è il Liler? Tu sei il Liler? Tsukuyomi sei tu? Se però sembra a me menano. Ma come i sopra gli hanno? Ma che c'entra? Ma che c'entrano questi? Ma questi che cavolo c'entrano? Oh! Non va bene, eh. Ma no, ma basta. Ehi. Che succede? Wow. Io, io... Io premo i tasti, perché tanto non... Eh, premo i tasti e muoio, infatti. Vedi? Ok, cura... Ok, perfetto. Vai, maledizione Oni. Bene! Grande! E uno è andato! Andata, Tsukuyomi è femmina. Vai! È femmina canonico, eh. Non è che me lo stai inventando. Ti vedeva anche. Bene! Oh, facili questi! Facili! Cioè, facili rispetto a Poliministro e compagnia bella. Perché Poliministro era più difficile? Più caldo... No, sapete cosa? Non è che era più difficile Poliministro. È che aveva un altro... Ehm... Pool di attacchi. E attaccava più velocemente, più volte. Insieme a Mastic. Mastic! Mastic attaccava di continuo e non si fermava mai. Ecco cosa. Non è che erano più forti. Erano solo più veloci. Abbiamo la supermoneta Oni che andremo ad usare subito. E poi magari nel prossimo episodio... Sapete cosa facciamo? Nel prossimo episodio... Vedo di fare magari Shien. Con le chiavi che si prendono per i portali. Allora, ho due monete Oni. Usiamo prima quelle normali. Ok? Che ci capita? Ah, Anima Graficoloso. Vabbè, c'è una schifezzina. E questo? Terzo premio. Anima Noco W. Ah, vittoria. E questa super che ci dà? Oh, la rossa. Secondo premio. Cupidama. Insomma, no. Eh, potrei iniziare a prendere un po' di spade particolari. Ho la spada che dà più sfereoni, quindi... Già, quello è... E poi guarda, cioè, ti incrementa tantissimo la potenza. Maschera Volpe. Cavoli. Trasformazione in divora spiriti. Ah, solo per Mortal Volpe. Eh beh. Eh, allora sì, sì, sì. E sapete cosa vi dico? Me le citto i livelli, perché non è possibile. Ci vuole troppo tempo a prendere le spadeoni. Non c'ho voglia, sinceramente. Devo far uscire i video. Non è che lo faccio per divertimento personale. Perché ormai la storia è conclusa, quindi... Anche faccio un po' di cittarello non mi interessa. Forse... A qualcuno sì. Non a me però. A qualcuno sì.